Allenamento del giovedì, ci troviamo della vittoria di via nazionale, di Cassia Frendano, allenamento a questo lato ci sono gli allievi di mister Gabriele di Felice, da quest'altro lato stanno i ragazzi, i ragazzi giovanissimi, abbiamo Gabriele, abbiamo Tenaglia, giusto? Tenaglia Nicola, giusto, mi sono barato, si vede, ecco i giovanotti, i giovanissimi che domenica affronteranno a Chieti, a Chieti e a Chieti, caro Enrico, che ha preso la patente per il motorino, che è bocciato, è idoneo, a posto, bravi ragazzi, ciao Quest'anno, ecco Michele che prende la palla, Cristian, si appresta a tirare Michele, Amedeo, Mister Gabriele in fondo che osserva, stanno iniziando gli allenamenti previsti per questo giovedì, in porta abbiamo il neo, neo arrivato domenico, con la divisa orange, Cristian si appresta se la centro Sì, siamo in rete, siamo in nostro domenico, l'ultimo arrivato della covata, proveniente dal FC Lanzano. Tutti i carichi ragazzi stanno preparando al dovere per la gara di domenica, big match contro il Lanzano 1920, è l'ultima gara di questa prima fase di campionato, allievi. Forse una sforbicciata che da fa? Ecco lì, 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 lì. Il pallone è andato a finire fuori, basta che non va a Santo Stefano. Ma che trattino è? Mettila! Com'è? Si metti là! Si! Al volo! 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 Eh! Tutta generazione! Grazie! Buon appetito!